E qui a breve, dove oggi c'è un cancello, verranno montate delle sbarre perché la certezza del nuovo parcheggio a Porta Leoni è che sarà a pagamento. Però una novità che noi pensiamo non mancherà di suscitare qualche polemica è il fatto che sarà possibile pagare soltanto con il POS e quindi magari per le persone anziane ci sarà più di una difficoltà. Ma comunque si tratta di un parcheggio, la gente non vede l'ora che apra che potrà risolvere almeno parzialmente grandi problemi di posteggio auto in centro storico. Il comune attende l'arrivo delle sbarre per delimitare il parcheggio della cassa per il pagamento del ticket, sempre più vicina quindi l'apertura del parcheggio di Porta Leoni in pieno centro storico, ricavato grazie alla demolizione delle palazzine popolari danneggiati dal sisma per le quali c'è stata una permuta tra comune e Ater. In molti si chiedevano perché il parcheggio che appare sostanzialmente pronto e con l'opportuna segnaletica dipinta non aprisse i battenti. L'ente sta attendendo l'arrivo dei materiali per montare sbarre e casse e aprire ma la notizia è che sulla determina che appare sull'albopretorio si parla di POS. Il pagamento sarà possibile col POS ed è stata coinvolta una banca locale per attivare una colonnina multifunzione. Se davvero però sarà attiva solo questa modalità di certo non mancheranno le critiche soprattutto per le difficoltà che potrebbero avere le persone più anziane. Ad ogni modo i cittadini attendono con ansia l'apertura del parcheggio Arraso da circa 100 posti in attesa del secondo step che dovrebbe portare a un parcheggio interrato.